Buongiorno Allora qua c'è Leo Il mio testimone Che sta guidando E niente noi siamo Abbiamo preso una giornata un po' diversa Dal solito E stiamo andando verso nord Verso le marche umbra Non so esattamente dov'è E guardate che nebbia che c'è Fa paura Quindi niente passeremo Un giorno perché poi dormiamo e torniamo dopo a Roma Il giorno dopo cioè domani Non è casa in montagna che c'è Leo Da quelle parti quindi niente Non è weekend Quindi infrasettimana Damaschi Ciao a tutti oddio sto maniendo un pezzo di pane cotto al forno a legna buonissimo questa dietro casa di leonardo vedete di fronte ci sono le pecore c'è un paesaggio bellissimo che ci troviamo a mille metri più bello qua ci troviamo esattamente nel confine tra umbria e marche siamo andati a fare la spesa in paese cose buonissime hanno preso formaggio ciauscolo bistecche cose così e stasera faremo il camino e faremo un po di cose insomma purtroppo leonardo si è scordato la tesserina di sky quindi non potremmo neanche vedere la tv vabbè c'è la prova del cuoco però quello qua il soggetto il pane ha uscole un po di cose insomma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un picnic e un po' fai da te. Abbiamo preso un po' di ciagoscolo, formaggio e pane. E ovviamente coltello. Quindi un po' per sicurezza, un po' per... No, vabbè qua non servono i coltelli. E' bellissimo. No, vabbè qua. 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 No, vabbè qua.